Corse alla pagina Evolvenza a cura di Vubi Prese dai jeans sdruciti il libretto verde del WWF dove erano elencate le specie animali rare o in pericolo di estinzione e iniziò a leggere Quello puscolo era il suo vademecum la voce della natura che non lo abbandonava mai con cui lui riviveva emozioni e ricordi di una vita passata Ancora una volta prese in mano le pagine spiegazzate e corse alla pagina che lo interessava di più quella che riportava la foto maestosa dell'aquila imperiale rilesse avidamente Aquila imperiale, Aquila Eliaca Questa grande aquila dal piomaggio bruno scuro con macchie chiare sulla nuca e sulle spalle ha un'apertura alare che può superare i due metri La sottospecie della penisola iberica vive nella macchia mediterranea Va a caccia di mammiferi di piccole e medie dimensioni uccelli, anatre, trampolieri, gazze, rettili, ecc. È presente con due distinte popolazioni una nell'Europa orientale e balcanica fino a gran parte dell'Unione Sovietica meridionale e all'Asia centrale e l'altra nella penisola iberica È il rapace più minacciato in Europa a causa della caccia, del bracconaggio e della distruzione del suo ambiente di vita taglio degli alberi scomparsa di alcune sue prede Sfogliò altre pagine per fermare meglio nella memoria i nomi degli animali e della natura che amava tanto Perché l'aquila è chiamata imperiale? Commento Perché è un individuo evoluto del mondo animale Come tale appartiene ad un'anima gruppo che, a differenza del passero, ad esempio vive di pochi individui e alle innanzitutto A presto Grazie a tutti.